Hotel e tour operator sono davvero indispensabili per poter lavorare, per poter aumentare il nostro fatturato? Bene, vediamo in questo video come collaborare con i tour operator. Ciao a tutti sono Alessia, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video dedicato al rapporto tra gli hotel e i tour operator perché ogni volta che si parla del mio settore, del mio lavoro, del social media marketing c'è un enorme malinteso ovvero il fatto che nel momento in cui andiamo a fare il social media marketing e quindi ci andiamo a occupare direttamente della nostra comunicazione automaticamente avremo tantissime prenotazioni dirette e ci possiamo scordare OTA e TIO. Assolutamente questo non è vero, sono la prima che dice che queste collaborazioni non si possono abbandonare del tutto, ovvio che nel momento in cui si va a gestire la propria comunicazione e a fare delle attività di marketing dirette ovviamente queste prenotazioni dirette saranno molte di più rispetto a quelle che poi passano attraverso questi canali. Quindi vediamo un attimino oggi qual è l'argomento del giorno, ovvero quello dei TIO e vediamo come collaborare con i tour operator. Prima di iniziare però come sempre iscrivetevi al canale così da non perdere tutti i miei prossimi contenuti. Ogni lunedì un nuovo video. Bene, perché non possiamo abbandonare i rapporti con i tour operator? Bene, perché loro comunque possono accedere a dei mercati al quale magari non possiamo arrivare noi e in questo caso ci possono aiutare lavorare anche nei periodi di bassa stagione con gruppi, promettiamo che voi non vogliate lavorare con i gruppi, possono raggiungere dei mercati internazionali con i quali noi abbiamo difficoltà a interagire anche per questioni linguistiche perché magari non partecipiamo a delle fiere dove lì abbiamo gli operatori del settore che possono essere poi interessati al nostro servizio e quindi in qualche modo questo mercato lo dobbiamo poter raggiungere e in questo caso saranno questi operatori, saranno i tour operator. Io comprendo che ci sono stati per tutti delle esperienze non positive. Io mi sono trovata nella situazione di gente che non voleva collaborare con i tour operator perché ah no non pagano con quello un problema X, i problemi li abbiamo tutti, ma a qualsiasi livello così come il negoziante ha i clienti maleducati e che rubano il ristoratore, ha il cliente che ti spacca la bottiglia di acqua nel ristorante, ve lo dico perché l'ho vissuto, ero in servizio proprio quel giorno, così come ci sono compagnie di tour per rete o serie e altre che magari sono meno serie. E proprio che nel momento in cui iniziano ad esserci dei campanelli di allarme la prossima volta quel contratto non si rinnova più perché non è per forza che poi dobbiamo continuare a collaborare con loro ma diamo fiducia invece a chi si comporta correttamente. Poi per la questione che non pagano, beh lì è anche da parte nostra, io vi dico che il mio soprannome anni fa quando ero ancora dipendente era Equitalia, che io tenevo conto di tutti i pagamenti, era mia responsabilità in realtà per gestire il flusso di cassa, capite bene che nel momento in cui tardavano a pagare, parliamo di pagamenti a 60-90 giorni, ero io che ero al telefono, ero io che facevo lunghe telefonate, inviavo email, a volte anche minatorie perché poi dovevano procedere al pagamento. Qui non parliamo della 100-200 euro, chi collabora con il tour operator ha una struttura grande, sa benissimo che parliamo di migliaia di euro che magari tardavano ad arrivare che effettivamente nella gestione di un hotel possono essere un problema. Quindi anche da parte nostra ci deve essere l'attenzione nel poter, nel avere poi i pagamenti sempre puntuali. Come vi dicevo comunque collaborare con i tour operator in alcune occasioni è anche indispensabile, pensiamo un attimino al mercato del lusso. Quello effettivamente è difficile dimenticare di una collaborazione del genere. Una volta durante una consulenza mi è stato detto no io non collaboro con i tour operator o comunque con le hotel perché poi a loro comunque devi sempre una commissione e quindi che cosa succede? Io adesso faccio in autonomia così o i prezzi più basi sono più competitivi sul mercato. Ok, questo discorso ci può anche stare, lo accetto, ma dobbiamo pensare al target dall'altra parte. Se tu stai facendo la guarda dei prezzi secondo me hai sbagliato un pochino il target, ma facciamo finta che comunque questo sia indispensabile. quel prezzo in più che sono disposti a pagare è per avere la sicurezza di qualcuno che gli gestisca tutto l'intinerario di viaggio e poi giudichi anche te per offrire loro un servizio, che sia quello di un hotel, che sia il noleggio di una barca o comunque in generale di un'esperienza. Quindi capite bene che questo discorso si può fare fino a un certo punto. Calcolate, io non faccio parte di quella clientela di settore lusso, ma io sono una di quelle, ad esempio, che quando deve viaggiare preferisce fare il fai da te. A me piace tantissimo organizzare viaggi, ho gli amici che sono i primi a dire, senti mi organizzi questo viaggio perché è una cosa che mi rende molto felice. Ma nel momento in cui ci sono dei viaggi un po' più complessi, magari all'estero, che prevedono una determinata documentazione, io sono la prima che preferisco ad andare in agenzia, consapevole del fatto che molto probabilmente pagherò di più il mio viaggio, ma l'assistenza che ti dà un'agenzia, parliamo di agenzie serie ovviamente, che sanno fare il loro lavoro, beh, quello è impagabile, quello vale tutti quei soldi che do in più e che io sono disposta a spendere, così come sono disposti a spendere anche una certa fascia di clientela. Nel momento in cui noi collaboriamo con Turo Pereto, quindi vi dicevo, entriamo all'interno di un mercato nel quale noi normalmente non operiamo, quindi come fare poi a creare delle collaborazioni? Ovviamente oltre che andare in fiera, e io questo lo consiglio sempre, è prendere contatti diretti, io vi consiglio di organizzare degli educational, gli educational sono delle occasioni in quale si invitano i tour operator a soggiornare da noi e si approfitta per non solo far conoscere i nostri servizi, la nostra struttura in generale, ma allo stesso tempo di si far conoscere i dintorni, magari tutte le esperienze, e qui entriamo nel lato turismo esperienziale che possono vivere, che i loro ospiti potranno vivere soggiornando nella nostra zona. Quindi non pensiamo solamente alle grandi città, ma l'education la possono valorizzare agli occhi di un tour operator anche un piccolo borgo. Quindi in quel caso voi li organizzate in modo tale da in quel momento, quello che fate è un investimento e voi li andate a creare poi dei contratti di collaborazione. Allo stesso modo vi dico che nel momento in cui andate a invitare un tour operator, magari evitate di invitarne più lo stesso giorno perché capite bene sono competitor, ma nelle stesse giornate potete invitare anche dei giornalisti, quindi combinare educational e press tour. Capite bene come questo può essere molto interessante e vantaggioso per la vostra struttura. Fare comunicazione in modo indipendente è estremamente utile per tutte le strutture recettive, grandi o piccole che esse siano. È ovvio che poi in base alla grandezza, in base ai servizi che si offrono, c'è da adattare tutta poi la strategia di comunicazione che andrà a essere messa in atto. Però capite bene che tutte queste collaborazioni con ITO oppure l'utilizzo delle piattaforme OTA sono e resteranno indispensabili per la vostra comunicazione. Faremo poi un video a parte sulle OTA dove parleremo ad esempio del classico Booking.com e capire quale deve essere il rapporto tra Booking.com e quello che noi dovremmo fare ogni giorno per portare sotto riflettori la nostra struttura recettiva. Fatemi sapere che cosa ne pensate del rapporto con i tour operator qui nei commenti. Poi se mi volete contattare trovate il link in descrizione per poter prendere un appuntamento con me. Io vi aspetto come sempre nel prossimo video. Besos!